E' stato probabilmente uno scherzo di cattivo gusto quello perpetrato ai danni della chiesa di Santi Pietro e Andrea a Fenile di Fano. Infatti qualcuno potrebbe aver manomesso l'impianto di comando automatico delle campane. Il fatto è successo domenica mattina, quando alle 4.45 un rintocco aritmico ha iniziato a ripetersi per 15 minuti. Il parroco, Don Giuseppe Tintori, ha allertato immediatamente la polizia, convinto che stesse succedendo qualcosa di insolito e che non si trattasse di un malfunzionamento. Alcuni residenti invece si sono recati all'istante in chiesa pensando che si potesse trattare di un furto o che fosse stato un allarme lanciato dal sacerdote perché si sentiva male. Molti poi sono stati messaggi inviati a Don Giuseppe per avere informazioni ma soprattutto per accertarsi che stesse bene. Tanta solidarietà dunque da parte dei cittadini che non si spiegano il motivo di quanto accaduto. Il parroco questa mattina ci ha detto che per ora non sporgerà denuncia ma avvierà degli accertamenti interni con dei tecnici privati per indagare su eventuali manomissioni. Infatti l'impianto non ha mai mostrato problemi, è sottoposto regolarmente a manutenzione e quello che fa ad obitare i parrocchiani è il fatto che non appena sono arrivati gli agenti e residenti del quartiere le campane hanno smesso di suonare. Inoltre nella stessa notte due fedeli si trovavano nella cappellina per l'adorazione e non hanno visto nessuno entrare nella porta adiacente che dà nella stanza dove si trova l'impianto. Quindi secondo gli esperti potrebbe essere stato qualcuno che dotato di un software particolare o anche semplicemente di un cellulare sofisticato si sia divertito nel cuore della notte a manomettere l'impianto. Grazie a tutti.